Il 5 febbraio del 1783, nella piana di Gioia Tauro, un terremoto distrusse 109 città e villaggi, producendo più di 166.000 vittime e gli anziani di quel territorio ancora lo ricordano col nome di Ufragello. Il 5 febbraio del 1783, nella piana di Gioia Tauro, un terremoto distrusse 109 città e villaggi, il 5 febbraio del 1783, nella piana di Gioia Tauro, un terremoto distrusse 109 città e villaggi, La notte spenta il 217, nella piana di Gioia Tauro, un terremoto distrusse 109 città e villaggi, il 4 febbraio del 1797, nella piana di Gioia Tauro, un terremoto distrusse 109 città e villaggi, la meraviglia fu di terra no si vota un dondo come una campana alla sciglia si vitte ruberine si ripidia la lupa di lumari parche di luce si vittira a perdire la meglio si vittira a perdire la lupa di una polpa 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 Grazie.